Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, il fidanzato Lino ha mostrato un comportamento inappropriato nei confronti della tentatrice Maika, mancando di rispetto alla compagna Alessia. Lino ha iniziato un flirt con Maika, raccontando le bugie e offendendola con accuse infondate. Tuttavia, Maika ha reagito con forza nell'ultima puntata, ribellandosi alle accuse di Lino e mettendolo al suo posto. Le parole offensive di Lino hanno scatenato la reazione decisa di Maika, che ha respinto le accuse con fermezza. La tentatrice ha sottolineato la mancanza di rispetto di Lino nei confronti di Alessia e ha messo in chiaro che non permetterà a nessuno di giudicarla o diffamare il suo nome. Maika ha evidenziato la doppiezza di Lino, che si comporta in modo incoerente e ipocrita. La reazione di Maika ha sorpreso molti spettatori, dimostrando una forte determinazione nel difendere la propria dignità e rispondere alle provocazioni con fermezza. La situazione tra Maika, Lino e Alessia si è fatta sempre più tesa, con Maika che ha dimostrato di non tollerare alcun tipo di mancanza di rispetto o falsità. La puntata di Temptation Island ha visto Maika prendere una posizione decisa e respingere le accuse di Lino con coraggio e determinazione. La reazione di Maika ha dimostrato la sua forza di difendere e della sua terrestrizione. ma tenendo in chiudo che non permetterà a nessuno.